Chi ben comincia a metà dell'opera recita così un noto proverbio italiano, e lo conoscono bene le ragazze del Cava Volley, che sabato 18 ottobre, alla prima di campionato di Serie C, Girone B, hanno battuto per 3-7-0 la multiservice AV Volley. Le guerriere di Mister Mirabile hanno concluso in fretta la pratica, con i risultati parziali di 25-16, 25-12 e 25-17. Sugli spalti della palestra Carducci-Trezza era presente un discreto pubblico, a sostegno delle Cavesi. Quello di sabato è stato un match impegnativo ed emozionante, soprattutto per la giovanissima Laura Senatore, Libero, che ha disputato la sua prima partita in Serie C. Un organico per gran parte riconfermato, eccetto per la grande assenza del capitano Stefania Lamberti, che quest'anno seguirà le sue compagne al di fuori del rettangolo di gioco. Ritorna invece a dar manforte alle compagne la banda Anna Fedele. Archiviata brillantemente la partita contro le Avellinesi, ora si pensa già al prossimo turno, fuori casa, contro il Rosciano Distribuzione.